La prima campana a meno 32 e la prima eliminazione a meno 31. La prima campana a meno 32 e la prima campana a meno 32 e la prima campana a meno 32. La prima campana a meno 32 e la prima campana a meno 32. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.